buongiorno a tutti buongiorno buongiorno inizi ad avere delle trasparenze nella tua cute cosa voglio dire quando ti guardi allo specchio incominci a vedere la pelle sotto cosa che non è mai successa incominci a fare la riga dall'altra parte spostarla aprirla in mezzo per nascondere perché hai paura che ti si possa vedere la cute non è la cosa giusta da fare la tua cute ti sta parlando ti sta inviando dei messaggi stai attenta perché se non corri ai ripari succede un casino mi presento per tutte quelle amiche quegli amici che ancora non mi conoscono io sono paolo e 35 anni fa circa insieme alla mia socia rosi abbiamo fondato parrucchieri revolution l'obiettivo di parrucchieri revolution il nostro obiettivo è stato fin da subito quello di poterti dare i migliori capelli sempre renderti sempre più bella grazie ai tuoi capelli e per poter raggiungere questo obiettivo abbiamo capito che sono fondamentali le cinque fondamenta della revolution una consulenza una cute sana che produca un capello sano ed è l'argomento di oggi ovviamente un capello sano non alterato da precedenti trattamenti chimici o meccanici un taglio eseguito rigorosamente con le forbici a lama piena e non con sfoltitrici o rasoi o similari è un colore che faccia sempre sempre un complimento al taglio e alla tua persona queste sono le cinque fondamenta della revolution se tutto questo si innesca in maniera corretta noi siamo in grado di darti la miglior versione possibile di te stessa ok partiamo con l'argomento di oggi ti si vede la cute cosa succede inizia a intravedersi la cute purtroppo questa è una storia che ho già sentito più volte provo questo provo quello vado dal dermatologo vado di qua ma niente sembra funzionare niente sembra darti il risultato sperato e poi cosa succede che uno si demotiva e vada come vuole poi ci saranno i trapianti ci saranno le pet e pezzo di parrucchini e né più né meno questo è la prassi tagliando tutti i vari passaggi che normalmente succede oppure ci si tiene i vuoti si fanno i riporti e non è una cosa bella oggi basta poco basta poco per fermare tutto quello che si è innescato dammi due minuti e ti racconto quello che è successo alle mie mani una decina d'anni fa circa colpa di prodotti che avevano cambiato i loro ingredienti io non me ne ero accorto a lungo andare tagli desquamazioni usciva il sangue un disastro ero convinto di dover cambiare lavoro l'unica cosa che riusciva a tenermi giù il tutto era crema il cortisone usata tre volte al giorno faccio una premessa ho cambiato tre o quattro dermatologi per alla fine capire che era l'unica cosa che funzionava poi mi hanno proposto un burro di karité puro non trattato chimicamente non in qualche modo artefatto puro naturale preso le rocciole spremute il burro di karité queste sono le mie mani oggi io continuo a fare parrucchiere senza problemi ok un miracolo no non è un miracolo semplicemente il giusto prodotto può arrivare a sistemare le mie mani può arrivare a sistemare il tuo assottigliamento chiaro che bisogna trovare il prodotto giusto non esistano i miracoli non esistano i miracoli questa è una fusione di attivi e di oli essenziali sono tutti chiusi qua dentro in tre prodotti differenti questi sono in grado di fermare senza nessun problema tutti i processi di assottigliamento che si possono innescare chiaro che ci vuole un minimo di impegno e della costanza perché i miracoli non li fa nessuno ma oggi si può fare alla revolution possiamo aiutarti non mi credi legge le nostre recensioni ma sfogliare un po delle nostre recensioni su facebook su sui sito proprio oppure nel nei nostri trascorsi parla i nostri clienti per noi i risultati noi li diamo e non facciamo nessun miracolo se si cerca il prodotto giusto la soluzione c'è c'è anche per te per cui non aspettare che sia troppo tardi contattaci 0371 89 89 00 questo è il numero di telefono della revolution noi siamo a san colombano in via cesare battisti al 20 bar se ci viene a trovare questi te li regaliamo noi i nostri libri li abbiamo scritti io e la mia socia rosy e qua ci sono scritti tanti segreti che riguardano proprio il mondo dei capelli e se sei una vera appassionata e tieni alla tua chioma ti consiglio di leggerli perché possono insegnarti e spiegarti tante 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 cose vi aspettiamo venerdì in questo caso alle ore 18 con la rosy che terrà lei la prossima diretta ciao a tutti buona giornata e buon appetito ciao a tutti